Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di oggi martedì 3 giugno, la zuppa di Porro. Allora, che cosa succede? Devo dire che mi spiace molto non avere la trasmissione in questo periodo e non avere la radio per poterla commentare anche su altri mezzi. Per fortuna c'è la zuppa di Porro che mi permette di avere un rapporto con tante persone e il sito nicolaporro.it dove già ieri sera avevo fatto un primo commento su questo decreto. Guerra al precariato, ora licenziamo il Jobs Act. Dice Di Maio, il decreto è una cagata pazzesca, pensavo ieri. Oggi invece sono andato a guardare i dettagli del decreto e come è stato realizzato. Ricordatevi che il decreto è una manovra d'urgenza, quindi era urgentissimo farlo. Il primo segnale di politica economica di questo governo. Insomma, dicevo, pensavo fosse una cagata pazzesca. Oggi, dicendo i giornali, ho capito che è anche peggio di una cagata pazzesca. Questo è il sindacalismo degli anni Ottanta della peggiore specie. Il decreto contiene tutti quanti gli emendamenti che la sinistra cigellina e ex comunista aveva posto addirittura al Jobs Act. Ragazzi, è un disastro. Se oggi vi leggete il Sole 24 Ore non lo capite. Perché il Sole 24 Ore ha questa caratteristica straordinaria. È il giornale della Confindustria, ma quando un industriale deve parlare male di quello che sta avvenendo nel governo non lo può fare sul giornale di cui paga il conto. Oggi, il Sole 24 Ore, vi leggo il titolo. Qual è il titolo del Sole 24 Ore? Licenziamenti arriva il maxi indennizzo. Un bel titolo così di cronaca, no? Maxi indennizzo per i licenziamenti. Vediamo che cosa c'è. Questa è una piccola sassolino che mi tolgo dalle scarpe perché se uno ha il giornale, lo usi un giornale, lo dia l'informazione per la parte spirituale che rappresenta quel giornale. Ma in Sole 24 Ore questo mestiere da un po' di anni non lo fa più. Cosa è successo in questo decreto di dignità? Viene da ridere, mi sembra, il decreto fatto da Renzi o del Berlusconi nel suo ridicolo intento propagandistico. Beh, intanto si rende sempre più complicato assumere con contratti a tempo determinato. Va sempre a tempo determinato. Quindi non più 36 mesi ma 24. E inoltre dopo il dodicesimo mese di contratto a tempo determinato sapete che cosa si deve fare? Si deve pagare di più. Ma non al dipendente che a me piacerebbe. Cioè si dice tu hai contrattini di 6 mesi, 12 mesi. E allora se ce l'hai di 6 mesi, 12 mesi devi prendere di più di uno che ha contratti a 50 anni come contratti della pubblica amministrazione. No, non prendi di più la persona che ha il contratto a tempo determinato. Ma lo Stato, quindi penalizzi l'imprenditore per aiutare lo Stato. E chi viene fottuto quello che ha il contrattino a tempo determinato. Vi sembra una cosa intelligente? A me no. Poi l'altra cosa fondamentale che hanno inserito in questi geni è una roba che chiedeva Damiano. Damiano, 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 avete capito? La sinistra del DS, la sinistra comunista, comunista così. Sapete che cosa ha previsto? Che in Italia dopo il Jobs Act per licenziamenti illegittimi si potesse fare tra un indennizzo da 6, da 3 mesi a 24 mensilità. Cioè io se ti licenzi legittimamente secondo il magistrato rischio fino a 2 anni di stipendio. Oggi rischi fino a 3 anni di stipendio. Il che vuol dire che se c'è una sanzione così alta, la minima è di 6 mesi, la più alta è a 3 anni, secondo voi, secondo voi un imprenditore sarà incentivato ad assumere a tutte le crescenti se ha il rischio che possa pagare anche 6 mesi di stipendio. Ragazzi, un imprenditore i soldi non li trova sugli alberi, li deve guadagnare 6 mesi di RAL, forse non sono un po' troppo. No, ovviamente no, perché tanto Di Maio di lavoro in sua vita non ne ha avuto neanche uno, uno solo l'ha avuto e gli durerà ancora per 5 anni e che è quello pagato da noi. Altra questione che hanno messo, oltre a tutte queste cose, è la reintroduzione delle clausole per le quali si deve assumere una persona. Cioè io assumo una persona, rispetto tutte le leggi, gli faccio il contratto, il contratto secondo tutte le normative, pago di più perché hanno detto che devo pagare di più i contributi per questa persona, in più, dopo il primo rinnovo, devo scrivere la causale per la quale lo prendo. E che cazzo? Lo prendo perché mi serve, non devo scrivere. Perché deve pulire gli alberi o deve fare ciò, eccetera. E se tu sbagli la casuale, che questo è il vero problema, sapete cosa succede? Il contenzioso. Ecco, il contenzioso cosa succede? Che la gente cosa dirà? Ma sai che c'è di nuovo? Mandatevene a quel paese, prendo uno per 12 mesi senza casuale, via! Via! Dopo 12 mesi ne prendo un altro, poi ne prendo un altro ancora, poi ne prendo un altro ancora. E se la casuale la mettono a sei mesi o a tre mesi, sapete che faccio? Me lo prendo in nero! Me lo prendo in nero! Me lo prende in nero! Chiaro? Benissimo. Andiamo avanti. Chi è che commenta questa roba? Sono 24 ore, ovviamente, non lo commenta, come vi ho detto. E poi c'è anche un'altra minchiata, la lotta alla ludopotia, poi ve ne parlo di quest'altra cosa. Fantastico è il fatto quotidiano. Anna, non li lascerei lavorare, hanno fatto un decreto, da domani è valido questo decreto, da domani! Se io voglio prendere un lavoratore a tempo determinato, devo fare la casuale, mi costa di più, sono disincentivato, da domani! Decreto di urgenza, vale da domani! Questa è la cosa straordinaria. La prima misura di politica economica di questo governo, mentre per quanto riguarda le politiche di sicurezza si può definire certamente un governo di destra, sono da comunisti, comunisti, avete capito? Comunisti, come è Damiano, come la CGL degli anni 70 e degli anni 80. Tant'è che il governo di destra fa cose di sinistra, chi lo dice il fatto quotidiano? Che poi non articola molto bene il suo ragionamento, perché viene affidato allo strillone del Movimento 5 Stelle, cioè Travaglio, che gode come un riccio. Invece di parlare bene del decreto nelle sue articolazioni, che fa schifo questo decreto, sapete che cosa ci spiega? Che dice che siccome questo decreto non piace alla Confindustria, che peraltro non lo scrive nel giornale, non piace a Sallusti, non piace agli imprenditori, questo decreto è una ficata. Complimenti, complimenti. Bel decreto legge di merda. L'altra questione è la ludopatia. Non potranno fare più pubblicità le società di gioco d'azzardo? Perfetto, perché sono i biscazzieri, sono i cattivoni, quelli che danno 6-7 miliardi di euro allo Stato in tasse. Non esiste quella stronzata che dice oggi Travaglio, che hanno condonato 98 miliardi di tasse non dovute. Non è vero, è semplicemente un falso, una fake news. Non dovevano dare quei soldi ed è stato un accertamento che era stato fatto sulle compagnie delle slot machine, completamente sbagliato, che è stato annullato da tutti quanti i giudici di questo mondo. Però ovviamente quelli continuano a dire che sono bischiazzieri e che l'emergenza italiana è la ludopatia. Facciamo una cosa, eliminiamo tutta la pubblicità dell'alcol, come abbiamo fatto per le sigarette e come faremo ora per il lotto. Sapete che succede col proibizionismo? Succederà quello che già succede, ragazzi, con questo. Ormai giocano con questi, giocano con i telefonini. Non si va a giocare alle slot machine, non si fa a grattivinci, gioco con i telefonini. E invece noi che cosa facciamo? Evitiamo la pubblicità. Bellissima operazione protezionista per la quale quello che era in chiaro diventa in nero, così come il lavoro in chiaro diventa in nero dopo questa minchiata del decreto. Comunque, lasciate perdere, perché in realtà poi questa non è una posizione... Quando leggo Polito oggi che attacca Salvini e dice Ah, non è vero che se piace agli italiani è necessariamente una cosa giusta, perché la democrazia, come diceva Popper, bisogna stare attenti perché c'è il diritto oltre la democrazia, che non è una maggioranza, solo perché è maggioranza che ha ragione. Non ce lo spieghi Polito questa cosa, perché la conosciamo bene e non c'era bisogno di leggere Popper, ma bisognava leggere la democrazia in America, che era di cento anni prima per capire questa roba che la democrazia può essere una grandissima minchiata. Ma mi chiedo, Polito, scusami, ma qual è il giornale che più ha agitato l'anticasta? Non è forse quello dove scrivi tu? Qual è il giornale che ha fatto le battaglie costelle, il rizzo contro tutte le caste, contro tutti i vitalizi, contro il fatto che i politici sono tutti di là? Chi l'ha fatto? Il tuo giornale. Adesso ti lamenti, perché il Movimento 5 Stelle e la Lega fanno esattamente quello che tu hai chiesto. Qual è il giornale che ha fatto le battaglie contro le ludopatie inesistenti da un punto di vista statistico, come c'è scritto, in tutte quante le relazioni degli... Cioè, esistono, ci sono i ludopatici, ma rispetto ai drogati, agli alcolizzati, ai malati di cocaina, di marijuana, sono una minoranza. Chi è il giornale che ha fatto tutte le battaglie contro le ludopatie? Il Corriere della Sera. E allora non rompere i coglioni, perché siccome le avete fatte voi queste battaglie populiste, poi se ci sono i populisti al governo, non è che alzi il dito e dici oh, ci sono i populisti al governo, la democrazia popper, l'avete creati voi. Chi li ha creati? Secondo voi, chi l'ha creato questo clima? L'ha creato loro. La lotta al precariato, che peraltro ha creato Repubblica, e la lotta alla casta, che ha creato il Corriere della Sera. Repubblica e il Corriere della Sera nella straordinaria eterogenesi dei fili sono i veri padrini di questo governo. Non ci rompessero le balle. Su una cosa, forse il giornale, Libero, metto anche me, siamo responsabili di questo governo. Va bene? E sapete cos'è? È semplicemente, banalmente, la questione dell'immigrazione. Belli oggi pezzi di Icchino, sul Corriere della Sera, ovviamente pagina 52, che spiega la dignità del lavoro non ha nulla a che vedere con la stabilità del lavoro, perché il lavoro più stabile del mondo in Italia è quello della pubblica amministrazione e ditemi voi se nel 90% quello è un lavoro dignitoso. Mentre nelle piccole imprese che hanno anche lavoro non stabile si fanno un culo così, non ha scritto esattamente così, Icchino lo dico io. Giornale, titola, favoloso, pezzo, il titolo del giornale è Senza dignità. E Giannino, oggi sul Messaggero, favoloso, anche Giannino, dice, fuga all'indietro verso l'ideologia del passato. Questo è il dato fondamentale di ieri. Il titolo del sole, ve l'ho detto, è banale e buono anche il retrosceno di Alessandro Barbera oggi sulla stampa che ci spiega Alessandro la Lega in realtà si è tirata indietro perché ha fatto un po' l'agnorri però è certo che non gli piace. Altre ultime due notizie che vi segnalo la Germania e l'accordo Merkel e il suo ministro degli interni perché si tenga il governo insieme sarebbe stata una frattura storica tra cristiani sociali bavaresi e i cristiani democratici della Merkel e questo vengono mantenuti insieme su un accordo campi di detenzione per gli immigrati a tempo indeterminato lì non c'è il decreto di dignità a tempo indeterminato adesso io non voglio fare il fenomeno ma come avrebbe un campo di detenzione in Germania a tempo indeterminato nei confronti di minoranze immigrate come l'avrebbero definito in Italia i giornali altro che Salvini rompiamo i coglioni a Salvini che è un fascista e lì fanno con tempi detenzioni in campi di detenzione a tempo indeterminato voglio vedere che cosa diranno i social democratici di questo quello che dice Belpietro è presto detto dice la Merkel come si vede in difficoltà per colpa di Conte il leader internazionale che avrebbe vinto gli accorti molto bello il feltrino di oggi sulla stampa la rubrica di Mattia Feltri perché prende per i fondelli quel cretino quello che vuole vomitare noi giornalisti che si chiama Beppe Grillo un cretino totale arrogante che non fa neanche più ridere il quale prende in giro Roma dicendo non ci sono buche non ci sono buche racconta queste stronzate su Roma che fa schifo come un bel sito la sta dipingendo ricorda quelle due ragazze morte proprio perché quei loro motorini che noi usiamo a Roma perché non ci si può muovere altrimenti a Roma sono cadute in due buche testa di minchia di Grillo che facesse tante battute che non pensasse ai morti per le buche a Roma ultima cosa di un altro feltri il papà Feltri bellissima questa foto delle ragazze atlete italiane di colore per i quali ci hanno fatto due palle così sull'integrazione tutto cose verissime ma non è anche come dice Facci basta dire bianche, gialle, rose sono italiane punto che siano nero non bianche allora Feltri se la prende e dice scusate ma sapete che giochi del Mediterraneo sono state vinte 196 medaglie italiane e hanno fatto la foto solo delle quattro e i quattro pallidini che hanno vinto la maratona i quattro pallidini del nuoto dove li mettiamo perché sono discriminati vabbè insomma quando utilizzi lo sport per fare il tuo spot elettorale e questo vale per il PD che ieri ha fatto i fenomeni sulle quattro integrate io direi che per oggi è tutto vi do appuntamento domani con la zuppa di Porro sul sito nicolaporro.it condividete se vi piace il decreto dignità è la più grande cagata che vi potevate immaginare in questo primo atto di governo decreto d'urgenza di urgenza ciao